Non è finito niente, niente! E il giorno che torno a casa mia non è un interruttore che si spegne! Non era la mia guerra! E il giorno che torno a casa mia non era la mia guerra! Ti ho fatto quel che dovevo fare per vincerla, ma qualcuno ce l'ha impedito! E il giorno che torno a casa mia chi sono? Mi chiamano Assalzino e dicono che ho ammazzato vecchi bambini! E chi sono per rullare contro di me, eh? Chi sono? Chi sono? Ehi! Oso a portare un fionino! Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi sono? Per chiamarmi Assalzino! Se non stanno neanche che cavolo stanno strillando! Io la pilotavo gli ericotteri, guidavo un carro armato, rispondevo di attrezzature per milioni! Ma non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore! E io vado! Chi è quel lurido stronzo comunista che ha firmato la sua condanna a morte? Ti ammazzo a forza di ginnastica e mi faccio venire i muscoli al buco del culo! E il giorno che torno a casa mia trovo un branco di vermi all'aeroporto che mi insultano, mi scudano al posto, mi chiamano Assalzino e dicono che... Come la carna è un'uappe e cartona! E chi sono per urlare contro di me, eh? I tuoi genitori hanno anche figli normali? Signor, sì, signore! Mi saranno pentiti di averti fatto! Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna! Non è finito niente! Niente! E il giorno che torno a casa mia non è un interruttore che si spegne! Non era la mia guerra! E il giorno che torno a casa mia non era la mia guerra! E ho fatto quel che dovevo fare per vincerla, ma qualcuno ce l'ha impedito! E il giorno che torno a casa mia... E chi sono? Mi chiamano Assalzino e dicono che ho ammazzato vecchi e bambini! E chi sono per urlare contro di me, eh? Chi sono? Chi sono? Ehi! Cosa portate? Un fiorino! Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi sono? Per chiamarmi Assalzino se non sanno neanche che cavolo stanno strillando! Io là pilotavo gli elicotteri, guidavo un carro armato, rispondevo di attrezzature per milioni, ma non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore! E io vado! Chi è quel lurido stronzo comunista che ha firmato la sua condanna a morte? Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo! E il giorno che torno a casa mia, trovo un branco di vermi all'aeroporto che mi insultano, mi sputano addosso, mi chiamano Assalzino e dicono che... Oma la carna! E' un uap e cartone! E chi sono per urlare contro di me, eh? I tuoi genitori hanno anche figli normali? Signor, sì, signore! Ti saranno pentiti di averti fatto! Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna! Grazie a tutti!